La solennità del Santissimo Corpo e Sanque di Cristo, il Sacramento dell'Eucaristia è memoria viva della sua Pasqua. Mentre ascoltiamo la sua parola e spezziamo il suo pane, Egli ci fa sentire vivi, ci fa passare dalla morte alla vita, dal peccato alla grazia, dalle tenebre alla luce, per quella forza redendrice di cui chiediamo di sentire i frutti. L'Eucaristia non è un semplice ricordo, è un fatto, è la Pasqua del Signore che rivive per noi. Nella Messa la morte e la risurrezione di Gesù sono davanti a noi. Fate questo in memoria di me. Riunitevi e come comunità, come popolo, come famiglia, celebrate l'Eucaristia per ricordarvi di me. Non possiamo farne a meno, è il memoriale di Dio. Con questi sentimenti celebriamo il mistero della nostra salvezza. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti voi. Grazie a tutti. 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 Cristo, 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 grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Gloria, Grazie a tutti. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo Ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa Signore, Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente Gloria, Gloria Ine Celsis Deo Gloria, Gloria Ine Celsis Deo Signore, Figlio, Unigenito, Gesù Cristo Signore, Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi Gloria, Gloria Ine Celsis Deo Gloria, Gloria Ine Celsis Deo Perché tu solo il Santo Tu solo il Signore Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo Con lo Spirito Santo Nella gloria di Dio Padre Amen Gloria, Gloria Ine Celsis Deo Gloria, Gloria Gloria, Gloria Ine Celsis Deo Preghiamo Signore Gesù Cristo Che nel mirabile sacramento dell'Eucarestia Ci hai lasciato il memoriale della Tua Pasqua Fa che adoriamo con viva fede Il santo mistero del Tuo corpo e del Tuo sangue Per sentire sempre in noi i benefici della redenzione Tu sei Dio E vivi e regni con Dio Padre Nell'unità dello Spirito Santo Per tutti i secoli dei secoli Amen Il Signore in tutta la storia della salvezza E' nutrimento per il suo popolo Con la manna Con la legge Con la sua parola E infine con il suo corpo e il suo sangue del figlio Questo cammino rivela il donarsi totale di Dio per l'umanità Fino al sacrificio di Gesù Fondamento del nuovo popolo di Dio Che è la Chiesa Dal libro del Deuteronomio Mosè parlò al popolo dicendo Ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto Per umiliarti e metterti alla prova Per sapere quello che avevi nel cuore Se tu avresti osservato o no i Suoi comandi Egli dunque ti ha umiliato Ti ha fatto provare la fame Poi ti ha nutrito di manna Che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto Per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane Ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore Non dimenticare il Signore, tuo Dio Che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto Dalla condizione servile Che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso Luogo di serpenti velenosi e di scorpioni Terra setata, senza acqua Che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima Che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri Parola di Dio Vediamo, grazie a Dio Ludo al Signore Gerusalemme Celebra il Signore Gerusalemme Roda il tuo Dio Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte In mezzo a te ha benedetto i tuoi figli Roda il Signore Gerusalemme Egli mette pace nei tuoi confini E ti sazia con fiore di frumento Manda sulla terra il suo messaggio La sua parola corre veloce Roda il Signore Roda il Signore Gerusalemme Roda il Signore Annuncia a Giacobbe la sua parola I suoi decreti e i suoi giudizi a Israele Così non ha fatto con nessun'altra nazione Non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi Roda il Signore Roda il Signore Gerusalemme Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi Fratelli Il calice della benedizione Che noi benediciamo Non è forse comunione con il sangue di Cristo E il pane che noi spezziamo Non è forse comunione con il corpo di Cristo Poiché vi è un solo pane Noi siamo, benché molti, un solo corpo Tutti infatti partecipiamo all'unico pane Parola di Dio Parola di Dio Alleluia 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 Io sono il pane vivo disceso dal cielo Dice il Signore Se uno mangia di questo pane Vivrà in eterno Alleluia 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 Il Signore sia con voi Tuo Spirito Dal Vangelo secondo Giovanni Gloria a te, oh Signore In quel tempo Gesù disse alla folla, io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro, come può costui darci la sua carne da mangiare. Gesù disse loro, in verità in verità io vi dico se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne beve il mio sangue alla vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne beve il mio sangue rimane in me e io in lui, come il Padre che alla vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore Glorie a Teo Cristo Alleluia 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 In questo cammino sinodale della Chiesa italiana, della nostra Chiesa diocesana, è la celebrazione eucaristica, è punto di arrivo, è punto di partenza di ogni cammino sinodale. Permettete che io rivolga il mio saluto affettuoso a tutti quanti voi, ai cari presviteri, ai religiosi e alle religiose che sono presenti, alle associazioni, ai gruppi, ai movimenti, alle confraternite, alle espressioni di volontariato anche civile e sociale, alle autorità civili. Gli illustrissimi signori sindici presenti, ma in modo particolare il signor sindaco di Crosia. Saluto con affetto anche chi in qualsiasi modo sta rendendo possibile questa assemblea liturgica, in questa basilica particolare, non costruita da mano d'uomo, siamo sotto il cielo. La Chiesa che cammina e che camminerà fra poco per le strade di questa nostra città, per le strade della nostra Chiesa diocesana. Stavo dicendo ringrazio chi ha messo a disposizione i mezzi della comunicazione, questa amplificazione. Ecco, chiunque in qualsiasi modo ha reso e renderà possibile lo svolgimento sereno di questo pomeriggio, le autorità militari, la polizia municipale, che ci aiuterà nel cammino che faremo. Ecco, fratelli e sorelle, sperando di non aver dimenticato nessuno, saluto tutti quanti con affetto, ma anche questa sera consentitemi con commozione, per questa assemblea sinodale che stiamo vivendo. La celebrazione eucaristica è punto allora di arrivo e di partenza di ogni cammino ecclesiale che attinge al mistero pasquale di Gesù Cristo. Il cammino sinodale che abbiamo intrapreso come Chiesa diocesana non può che essere plasmato e alimentato dall'Eucarestia. Quell'Eucarestia, che un bel gruppo di voi, da questa sera in poi, porterà anche agli ammalati, a coloro che non hanno più la fortuna, la grazia, di poter partecipare all'assemblea liturgica e devono vivere questa comunione da casa, lontani dall'altare del Signore. La sinodalità ha la sua fonte e il suo culmine allora nella celebrazione liturgica e in forma singolare nella partecipazione piena, consapevole e attiva alla mensa della parola e del pane. La comunione con il corpo e il sangue di Cristo fa sì che, benché siamo molti, siamo un solo pane e un solo corpo, perché tutti partecipiamo dell'unico pane, dell'unico altare. L'Eucarestia genera e nutre, allora fratelli e sorelle, la sinodalità. E il sinodo trova il suo apice nella celebrazione dell'Eucarestia. L'Eucarestia è il momento costitutivo della comunità. L'Eucarestia è la sorgente della sua vita, il motore della sua missione e il rovetto ardente di una comunità. Il Signore fonde il suo spirito in ogni luogo e in ogni tempo sul popolo di Dio per renderlo partecipe della sua vita, nutrendolo con l'Eucarestia e guidandolo in comunione sinodale. L'essere veramente sinodale, cari fratelli e care sorelle, quindi è camminare in armonia sotto l'impulso dello Spirito Santo. Non c'è bisogno che questa sera io faccia una catechesi liturgica sull'Eucarestia, perché tutti voi so che siete più preparati di me. Ma se per un momento, come si fa al catechismo con i più piccoli, pensiamo a quante volte l'Eucarestia è camminare insieme. Pensateci un attimo, siete tutti maestri in Israele. Innanzitutto la processione di ingresso non è un camminare insieme. Che cosa hanno fatto i presviteri venendo qui all'area liturgica? Cosa avete fatto voi muovendovi dalle vostre comunità parrocchiali per venire qui questa sera? Non avete camminato insieme? E poi questo camminare insieme in modo sinodale si conclude all'inizio della messa con quella orazione che chiamiamo come noi presviteri? La? Ah, non l'hanno cambiato con la riforma liturgica. Si chiama ancora la colletta. E che cosa fa la colletta? Non quella del cestino che passa poi più tardi. La colletta mette insieme le intenzioni di tutto il popolo di Dio. E non è sinodo questo, fratelli e sorelle. Cosa abbiamo fatto in questi due anni? Non ci siamo ascoltati? Non abbiamo fatto colletta? Non abbiamo messo insieme i pensieri, le intenzioni, le gioie, le sofferenze di tutti quanti? Ma non si conclude qui. Le processioni nella celebrazione della messa sono tante. Mi sa che dovrò mettere da parte i fogli che ho preparato, no? C'è l'altra processione, l'abbiamo appena vista. Quando ci siamo messi in cammino per andare da chi ci poteva dare la risposta, la parola di Dio. Tre dei nostri fratelli si sono messi in processione, sono andati all'ambone e hanno proclamato la parola che salva. Non è camminare insieme, non è sinodo questo. E fra poco, fratelli e sorelle, non sarà camminare insieme la processione offertoriale che porterà all'altare il pane e il vino che diventeranno il corpo e il sangue del Signore? E' l'apice poi delle processioni, no? O meglio ancora, prima c'è il momento del dialogo, no? Tra noi e Dio. il momento della consocrazione, il momento dell'invocazione dello Spirito Santo, l'epiclesi. E poi, fratelli e sorelle, non è cammino sinodale il nostro alzarci dei posti ed andare finalmente a celebrare la comunione con il Signore? La comunione eucaristica. Non è ancora un popolo che cammina insieme quello che va a ricevere la santa comunione? E alla fine, fratelli e sorelle, proprio come ci invita l'Evangelii Gaudium, non è un mettersi in cammino insieme, ancora una volta, per la missione questa volta, quando il presbitero ci darà, la messa è finita, andate in pace, non significa abbiamo trimbrato il cartellino, siamo stati bravi, adesso ce ne torniamo a casa sereni, no, quello è un mandato missionario, l'esperienza di comunione che hai vissuto, l'esperienza di sinodalità che hai vissuto intorno all'altare del Signore, ora vai e portalo al mondo intero. Ecco, fratelli e sorelle, perché l'Eucaristia, perché l'Eucaristia è il cuore della sinodalità, ecco perché, fratelli e sorelle, perché l'Eucaristia, l'essere veramente sinodale, è camminare in armonia sotto l'impulso dello Spirito Santo. Il sinodo vede all'opera lo Spirito che agisce accompagnandoci ad ascoltare, a discernere, a scegliere quello che Dio chiede oggi a questa Chiesa, alla nostra Chiesa, questa Chiesa, fratelli e sorelle, che con il nostro sinodo ci stiamo sforzando di sognare bella come deve essere la Chiesa di Gesù Cristo. Ogni incontro, ogni sessione, ogni momento che ci ha visti riunire in questi primi due anni di cammino sinodale è incominciato sempre, fratelli e sorelle, con l'ascolto della parola di Dio e con l'invocazione allo Spirito Santo. e lo Spirito che opera nel sinodo, fratelli e sorelle, e l'Eucarestia che ci fa essere sinodali, evidenziando che l'unità prevale sulle differenze, che possono anche restare tali le differenze, ma senza che venga meno la comunione ecclesiale. e la festa di Pentecoste che abbiamo orora celebrato ci ha detto che siamo un popolo nuovo, un popolo nelle quali ogni persona si differisce dall'altra, come in un poliedro, ma, fratelli e sorelle, è bella la nostra Chiesa perché è fatta da tanti tasselli, dai volti di ciascuno di noi, ma nell'Eucarestia ecco, questa diversità diventa ancora una volta comunione, diventa ancora una volta unità. L'Eucarestia, afferma Papa Francesco, richiama anche lo stile della sinodalità. lo stile della sinodalità. Non so se ci avevate mai pensato, cari fratelli e care sorelle, che la prima scuola dove imparare ad essere sinodali era l'Eucarestia. E da quanto tempo la celebriamo? Da quanto tempo partecipiamo all'Eucarestia, fratelli e sorelle? Da quanto tempo siamo ministri straordinari dell'Eucarestia? E non lo facciamo forse con questo spirito di sinodalità, di comunione con la nostra Chiesa, con la nostra comunità parrocchiale? Dice Papa Francesco, l'Eucarestia è farmaco efficace contro le nostre chiusure. Il pane di vita infatti risana le rigidità e le trasforma in docilità. L'Eucarestia guarisce perché unisce a Gesù pane di vita eterna ci ha detto il Vangelo di questa solennità. L'Eucarestia guarisce perché unisce a Gesù ci fa assimilare il suo modo di vivere, la sua capacità di spezzarsi e donarsi ai fratelli, di rispondere al male con il bene. Ci dona il coraggio di uscire da noi stessi e di chinarci con amore verso le fragilità altrui. Come fa Dio con noi questa fratelli e sorelle cari ministri straordinari dell'Eucarestia questa è la logica dell'Eucarestia riceviamo Gesù che ci ama e sana le nostre fragilità per amare gli altri e aiutarli nelle loro fragilità questo fratelli e sorelle durante tutta la nostra vita. Un autore ebraico ricordava la centralità del sabato per il popolo ebraico e diceva così non è tanto Israele che ha custodito il sabato ma è il sabato che ha custodito Israele. Potremmo tradurre così se noi custodiamo la domenica se noi custodiamo l'Eucarestia questa custoderà noi fratelli e sorelle se ci lasciamo guidare dalla logica dallo stile dell'Eucarestia che è stile sinodale questa proteggerà il nostro cammino insieme al di là dei risultati ci farà crescere come popolo di Dio unito e in cammino alla sequela del Signore. Ecco salto tutto quello che avevo preparato per come commento alle letture di questa domenica di questa solennità e vado subito alla conclusione fratelli e sorelle cari fratelli e care sorelle oggi festa del corpus domini abbiamo la gioia non solo di celebrare questo mistero a livello diocesano e donare il mandato ai ministri straordinari dell'Eucarestia ma è anche il momento per lodare e cantare per le strade della nostra città e della nostra diocesi la processione che faremo al termine della messa possa esprimere la nostra riconoscenza per tutto il cammino che dio ci ha fatto percorrere attraverso il deserto delle nostre provertà per farci uscire dalla condizione servile nutrendoci del suo amore mediante il sacramento del suo corpo e del suo sangue cari fratelli e sorelle continuiamo a celebrare il memoriale che guarisce guarisce la nostra memoria che sana la nostra vita avevo scritto prima commentando le letture che ecco l'Eucarestia nutrirci di Lui diventare dimorare in Lui mediante la comunione eucaristica se lo facciamo con fede trasforma la nostra vita il Signore è voluto rimanere in mezzo a noi è voluto rimanere in mezzo a noi ecco non solo lasciandoci delle parole perché è facile che le parole si dimenticano fra qualche minuto non vi ricorderete più niente di quello che vi sto dicendo non ci ha lasciato solo la scrittura perché è facile dimenticare quello che si legge non ci ha lasciato solo dei segni perché si possono dimenticare anche i segni ci ha lasciato un cibo ci ha lasciato un pane perché è difficile fratelli e sorelle dimenticare il sapore ditemi la verità ci sono dei sapori che nella nostra vita non dimenticheremo mai soprattutto i sapori di quelle persone che ci hanno amato della nostra mamma sono sapori che non si dimenticano e così Cristo non ci ha voluto lasciare né una parola né una scrittura né dei segni ci ha voluto lasciare un pane per essere presente in mezzo a noi perché è difficile dimenticare un sapore ci ha lasciato un pane nel quale c'è lui vivo e vero con tutto il sapore del suo amore ricevendolo possiamo dire il Signore il Signore si ricorda di me allora fratelli e sorelle questo memoriale che rende presente in mezzo a noi il mistero della morte e della risurrezione del Signore questo memoriale e la celebrazione dell'Eucarestia e la Santa Messa e il tesoro da mettere al primo posto nella Chiesa e nella vita e nello stesso tempo vorrei ricordare a voi che oggi diventate ministri straordinari dell'Eucarestia vorrei affidare a voi il compito di riscoprire l'adorazione eucaristica non basta portare la comunione dovete essere nelle vostre comunità parrocchiali dei veri e propri adoratori o come vorrei che in ogni parrocchia il gruppo dei ministri straordinari costituissero il monastero di quella parrocchia anime consacrate alla preghiera e all'adorazione eucaristica ormai ho visitato tutte le vostre parrocchie e in poche meno che non me le avete presentati non lo so in poche ho trovato il gruppo dell'apostolato della preghiera non so se è una tradizione della chiesa di Rossano Cariati solo in una parrocchia le ho trovate la schiavonea ecco vorrei che voi che costituite i ministri straordinari dell'eucaristia vi costituisse nelle vi costituite nelle vostre parrocchie come gruppo di apostolato della preghiera o meglio come si chiama oggi rete mondiale di preghiera con il nome che papa francesco gli ha voluto dare e a cui affida mensilmente un'intenzione di preghiera vorrei che la nostra chiesa diocesana diventasse in ogni parrocchia un monastero e questo lo affido a voi ministri straordinari dell'eucaristia che dovete essere nonno i prediletti i prescelti coloro che il parroco ha scelto non so per quale motivo voglio sperare che sia proprio l'adorazione eucaristica l'amore che avete per l'eucaristia diventate nella parrocchia questa piccola cellula di adoratori quando ero ragazzo e anch'io sono stato come voi ministro straordinario dell'eucaristia il mandato per i ministri straordinari avveniva ogni domenica alla fine della messa era il parroco che ci dava la teca con le particole e quando diceva andate in pace ci inviava dagli ammalati che bello questo questo segno voi appartenete alla comunità parrocchiale e quello che fate non lo fate perché siete più bravi degli altri più degni degli altri lo fate perché la comunità vi manda questa processione ritornano il tema del camminare insieme ora lo so i tempi gli orari sono diversi non è che tutto si può svolgere in quell'ora della domenica dopo la messa però ecco era un segno per me è importante ogni domenica era il parroco che mi mandava era la comunità cristiana radunata in sinodo a celebrare l'eucaristia che mi mandava a portare la comunione ai fratelli più disagiati nelle case ecco fratelli e sorelle vi ho offerto queste povere provocazioni accogliettele accoglietele come ecco come segno di sinodalità accogliete e vivete l'eucaristia con questo spirito l'eucaristia è la scuola dello stile sinodale è dall'eucaristia che dobbiamo imparare la spiritualità della sinodalità e se non lo impariamo dall'eucaristia non ci saranno maestri bravi quanto volete assemblee brave quanto volete che ci insegneranno questo stile che la chiesa di dio oggi ci chiede vi faccio tanti auguri perché ecco vi faccio tanti auguri e vi affido all'intercessione della madonna lei ci ottenga la grazia di nutrirci sempre con fede di Gesù pane della vita amen vivremo adesso il rito del mandato ai ministri straordinari della santa eucaristia i quali in atteggiamento di pronta adesione alla volontà di dio si metteranno in piedi mentre tutti noi rimarremo seduti fratelli fratelli e sorelle carissimi nel signore viene conferito oggi a questi nostri fratelli e sorelle l'ufficio di ministri straordinari della comunione che che consentirà loro di distribuire l'eucaristia ai fedeli portando portarla ai malati recarla come viatico ai moribondi e anche di comunicarsi direttamente a voi fratelli e sorelle che ricevete tale compito cercate di esprimere nella fede e nella vita cristiana la realtà dell'eucaristia mistero di unità e di amore noi tutti infatti pur essendo molti siamo un corpo solo perché partecipiamo dell'unico pane e dell'unico calice e poiché distribuirete agli altri l'eucaristia sappiate esercitare la carità fraterna secondo il pregetto del Signore che nel dare in cibo ai discepoli il suo stesso corpo disse loro questo è il mio comandamento che vi amiate l'un l'altro come io ho amato voi cari fratelli e sorelle volete assumere l'ufficio di ministri straordinari della comunione per il servizio e l'edificazione della chiesa volete impegnarvi con diligente attenzione e con profondo rispetto nella distribuzione dell'eucaristia ci mettiamo in piedi mentre i ministri si porranno in ginocchio se possono sono lo stesso carissimi rivolgiamo con fede la nostra preghiera a Dio Padre perché si degni e fondere la sua benedizione su questi nostri fratelli e sorelle scelti per distribuire la santa eucaristia tutti preghiamo qualche momento in silenzio per questi nostri fratelli o Padre che formi e reggi la tua famiglia benedici questi nostri fratelli e sorelle essi che in spirito di fede e di servizio distribuiranno ai fratelli il pane della vita siano rinvigoriti dalla forza dello stesso sacramento e partecipino un giorno al tuo convito eterno per Cristo nostro Signore Amen Esprimiamo la nostra gioia per il sì di questi nostri fratelli con un bel applauso e confermiamo con il nostro sì ecco l'adesione alla alla fede che ora tutti insieme vogliamo professare credo in un solo Dio Padre onnipotente creatore del cielo e della terra di tutte le cose visibili e invisibili credo in un solo Signore Gesù Cristo unigenito figlio di Dio nato dal Padre prima di tutti i secoli Dio da Dio luce da luce Dio vero da Dio vero generato non creato della stessa sostanza del Pano per mezzo di Lui tutte le cose sono state create per noi uomini per la nostra salvezza discesa dal cielo e però dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo fu crocefisso per noi sotto Ponzio Pilato morì fu sepolto il terzo giorno risuscitato secondo le scritture e salito al cielo siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e morti e il suo regno e il suo regno non avrà fine credo nello Spirito Santo che è il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio con il Padre e il Figlio li ha adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti credo la Chiesa una santa cattolica e costolica professo un solo battesimo per il perdono dei peccati aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà fratelli e sorelle il sacramento del corpo e del sangue del Signore è culmine e fonte di tutta la vita della Chiesa innalziamo la nostra preghiera unanime perché da questo grande mistero scaturiscono i doni dell'unità e della pace preghiamo insieme e diciamo per il corpo e il sangue del tuo figlio salvaci Signore per il corpo e il sangue del tuo figlio salvaci Signore per la santa Chiesa fortificata dal pane di vita cammini sulle strade del mondo annunciando in parole e in opere il Vangelo di salvezza preghiamo per il corpo e il sangue del tuo figlio salvaci Signore per i presbiteri ministri dell'altare si conformino sempre più al mistero che celebrano all'ode di Dio e a servizio del suo popolo preghiamo per il corpo e il sangue del tuo figlio salvaci Signore per tutti i popoli dilaniati dalla violenza e dalle guerre la pace possa trionfare sulla violenza la riconciliazione sull'odio l'amicizia sulla vendetta preghiamo per il corpo e il sangue del tuo figlio salvaci Signore per gli infermi che non possono partecipare all'assemblea domenicale come membra sofferenti e preziose del corpo di Cristo sentano il conforto della comunità cristiana e siano sostenuti nella speranza dalla comunione con il Signore preghiamo per il corpo e il sangue del tuo figlio salvaci Signore per noi invitati alla menza eucaristica e in modo particolare per questi nostri fratelli e sorelle che oggi hanno ricevuto il mandato dei ministri straordinari della comunione la nostra vita in unione al corpo e al sangue di Cristo sia vissuta il rendimento di grazie al padre e fiorisca in gesti di carità fraterna preghiamo per il corpo e il sangue del tuo figlio salvaci Signore Signore Gesù nell'Eucarestia sacramento del tuo amore hai posto la sorgente dello spirito fa che nutrendoci con il cibo di vita eterna e la bevanda di salvezza pregustiamo il convito del cielo tu che vivi e regni nei secoli dei secoli amén il pane e il vino che presentiamo all'altare e che diventeranno il corpo e il sangue del Signore sia nel segno dei nostri cuori che vogliono amarlo accoglierlo adorarlo adorarlo e che diventerà e che diventerà La carità è vera e sincera, nace Dio, dove la carità perdona e tutto soppona. La carità è vera e sincera, nace Dio, dove la carità perdona e tutto soppona. Ci ha riuniti in uno l'amore di Cristo, esultiamo e rallegriamoci in Lui. Temiamo ed amiamo il Dio vivente ed amiamoci tra noi con cuore sincero. La carità è vera e sincera, nace Dio, dove la carità perdona e tutto soppona. La carità è vera e sincera, nace Dio, dove la carità perdona e tutto soppona. La carità è vera e sincera, nace Dio, dove la carità perdona e tutto soppona. Non più liti, non più dissidi e contese maligne. Ma sia sempre in mezzo a noi, Cristo Signore. la carità è vera e sincera, nace Dio, dove la carità perdona e tutto soppona. dove la carità perdona e tutto soppona. Continuate a pregare, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Concedi benigno alla Tua Chiesa, o Signore, i doni dell'unità e della pace, misticamente significati nelle offerte che Ti presentiamo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. E' veramente cosa buona e giusta, nostro dovere. e fonte di salvezza rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Sacerdote vero ed eterno, Egli istituì il rito del sacrificio perenne. A Te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di compiere l'offerta in Sua memoria. Il Suo corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza, il Suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero di salvezza il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo di adorazione e di lode e noi con tutti gli angeli del cielo proclamiamo senza fine la Tua gloria. Sancto, 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 il Signore, Dio dei tuoi pezzi, i geni e la terra sono pieni della Tua gloria. O santa in eccessi, o santa in eccessi. Peredetto colui che viene Nel nome del Signore O santa in eccessi, o santa in eccessi. Veramente santo sei Tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del Tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a Te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al Tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il Tuo Spirito i doni che Ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del Tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. allo stesso modo dopo aver cenato prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai Suoi discepoli e disse prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati, fate questo in memoria di me. mistero della fede, annunciamo la Tua morte, Signore, proclamiamo la Tua resurrezione, nell'attesa della Tua venuta, nell'attesa della Tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del Tuo Figlio, della Sua mirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della Sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della Tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del Tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a Te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i Tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, i Tuoi Santi Apostoli, i Gloriosi Martiri, i Santi Nilo e Bartolomeo, Leonardo, Cataldo e tutti i Santi, nostri intercessori presso di Te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero, conferma nella fede e nell'amore la Tua Chiesa pellegrina sulla terra, il Tuo Servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Maurizio, l'Ordine Episcopale, i Presbiteri, i Diaconi e il popolo che Tu hai redento. Ricongiungi a Te, ascolta la priera di questa famiglia che hai convocata la Tua presenza. Ricongiungi a Te, Padre misericordioso, tutti i Tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel Tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con Te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della Tua gloria. In Cristo nostro Signore per mezzo del quale Tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A Te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. ammè. 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 Dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Liberaci o Signore da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo che hai detto ai tuoi apostoli vi lascio la pace e vi do la mia pace non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa e dona le unità e la pace secondo la tua volontà tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amén. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo Signore. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Miserere nobis, Miserere nobis, Miserere nobis, Miserere nobis, Miserere nobis, Miserere nobis, Dio, tu che torni i mercati del mondo. Dona nobis pace, dona nobis pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Per ricevere in maniera ordinata la Santa Eucaristia ci saranno due ministri davanti all'altare, tre ministri sul lato sinistro dell'Assemblea, due sul lato destro e alla porta della Chiesa riceveranno l'Eucaristia i celiaci. Grazie. 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 Il suo nome, non dimenticherò tutti i suoi benefici, benedici il Signore, anima mia. Lui perdona tutte le tue colpe e ti salva dalla morte. Ti corona di grazia e ti sazia di venire nella tua giovine. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo nome. Non dimenticherò tutti i suoi benefici, benedici il Signore, anima mia. Il Signore agisce con giustizia, con amore verso i poveri. Rivelo a poste le sue via di Israele, le sue grandi ore. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo nome. Non dimenticherò tutti i suoi benefici, benedici il Signore, anima mia. Preghiamo Donaci, oh Signore, di godere pienamente della tua vita divina nel convito eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del tuo corpo e del tuo sangue, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Fratelli e sorelle carissimi, la processione che ci apprestiamo a vivere è il prolungamento della celebrazione eucaristica e della sosta meditativa e adorante dopo la comunione. Ogni processione è il segno di un popolo che è pellegrino sulla faccia della terra e cammina insieme tenendo lo sguardo fisso sui beni eterni. È il segno che aiuta a ricordare che Dio ha creato l'uomo per l'eternità e che Cristo gli ha preparato un posto nel suo regno. Cammineremo con Gesù, cammineremo insieme con Gesù. che percorrerà le strade di questa nostra città. Egli desidera abitare in mezzo a noi, vuole visitare le situazioni, entrare nelle case, offrire la sua misericordia liberatrice, benedire, consolare. Abbiamo provato situazioni dolorose. Il Signore vuole esserci vicino. Grazie. 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 corpo e sangue del tuo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, noi peccatori e servi indegni. Ti supplichiamo perché questa comunione non sia per noi motivo di pena, ma piuttosto pegno salutare di perdono. Ci sia armatura di fede, scudo di buona volontà, liberazione dai vizi, distruzione della concupiscenza, aumento di carità e di pazienza, di umiltà, di obbedienza e di tutte le virtù. Sia nostra salda difesa contro le insidie di tutti i nemici visibili e invisibili, quiete perfetta delle passioni. Con te, unico e vero Dio, stabile, unione e possesso beato, degnati, ti preghiamo di ammettere noi peccatori a quell'ineffabile convito dove tu con il tuo Figlio e con lo Spirito Santo sei luce vera, sazietà piena, gaudio sempre eterno, giocondità completa e felicità perfetta. Per lo stesso Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Sia Santa, in cui è il testamento della Divina, tua grande misericordia, in cui è il corpo, il sangue del Signore, segno d'amore per noi peccatori. Sia Santa, in cui è la B Sia Santa, in cui è la sorcederemmi, Nell'acqua viva per noi peccatori, Nell'acqua viva per noi peccatori, Ci mettiamo in processione seguendo il seguente ordine. Apriranno i ceroferai insieme alla croce, poi le confraternite formando due fila ai lati della strada, le associazioni, i bambini della prima comunione, le religiose, il coro, i ministranti, i sacerdoti, il ministrante con il pastorale e la mitria, il baldacchino, l'arcivesuo con il santissimo sacramento e tutto il popolo di Dio. Grazie. 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 Grazie.